E questa mattina si sono registrati non pochi disagi sul fronte della viabilità per un incidente avvenuto sull'autostrada 14 all'altezza del casello di città Sant'Angelo Pescara Nord. Noi abbiamo pronto in diretta collegato già con noi il nostro Luca Pompei che ci racconta esattamente cosa è successo. Luca, buongiorno a te. Buongiorno a te Anna, eravamo praticamente all'alba, prima ora della giornata quando una bisarca si è ribaltata al chilometro 370 della 14 per intenderci tra i caselli di Chieti Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione nord. La bisarca aveva, ecco stiamo vedendo delle immagini amatoriali che ci sono state inviate alla redazione social, la bisarca aveva a bordo 5 autovetture, 2 sono finite in una scarpata, 3 sul manto stradale, tra l'altro tra queste autovetture anche una Ferrari. La bisarca è di una ditta di Francavilla e si stava dirigendo verso nord probabilmente in Germania. Sul posto ovviamente mezzi di soccorso, la fortuna è che il conducente della bisarca ha riportato solo lievi ferite, non sono state coinvolte altre autovetture. Il problema però è che è stato necessario chiudere per diverse ore un lungo tratto autostradale in direzione nord della 14 per consentire ai mezzi di soccorso di rimuovere le autovetture sul manto stradale e riportare tutto alla condizione normale. Si è creata qualche difficoltà anche sul tratto direzione sud perché come al solito purtroppo la curiosità è padrona sotto certi aspetti e molti automobilisti hanno rallentato per vedere cosa era accaduto creando anche in quel tratto qualche lieve disagio. Il tratto autostradale dovrebbe essere riaperto tra pochi minuti perché le operazioni di sgombero delle autovetture sul manto stradale, della bisarca e di altre autovetture finite nella scarpata è stato un lavoro particolarmente duro e complicato. Però sostanzialmente sono stati più che altro i disagi che gli effetti fortunatamente sulle persone per questo incidente che è avvenuto questa mattina sulla 14. Dice a te Anna